Ok siamo pronti vai Siamo pronti possiamo iniziare Via faccio iniziare Sì 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 dai inizia Il titolo di questo video secondo me sarà Disegniamo cose cringe Ok Eccoci qua ok Stiamo iniziando allora Ok io so Anche io Focus Ok Ben Scusate Misakelle me ne vado allora No 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 resta Resta Herman entra nel link Che ti ho mandato Ok accetta Ma cosa sta venendo Sperate Mi faccio anche gli alti mila Mi faccio anche gli alti mila Mi faccio anche gli alti mila Sì stai risando Forse questo sarà il video Più cringe che abbiamo mai fatto Ma cosa più finita Mi stia neanche parlando E' quello il brutto Vero ok Io ho fatto Anche io fido Io no Spero che uno ha preso il mio Di disegno È abbastanza difficile disegnare da computer Per me Cioè a me mi viene meglio tipo disegnare Con Con Inizio a registrare quando abbiamo finito Tolgo l'audio io Non metto l'audio della voce E' che è un mancello Ma lo metto da lavoro quando hai visto fare video su computer Elia una domanda Si Ehm Mercoledì È il giorno più libero che ho Sto a casa tutto il giorno Dopo le 4 e me Dopo le 5 Mercoledì ok Sì Così potete vedere insieme Ehm Cioè io e te che siamo insieme Herman? Lo siamo venuti insieme Dopo le 5 Ah ok va bene Ragazzi Guardiamo adesso Ok i disegni Che son fatto io Brucciato con sfumature ambigue Sì Sì Hai disegnato la cosa E non ma se ci dicevo che ne fasi Sì Sì Vediamo Che disegno Sì 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 Vabbè 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 Ok Adesso c'è anche Herman Yes C'è anche Herman 2 L'Iserte il video? Si Sto yang Registrando E Ah Io hoachè Mi sono registrati Per tutti i fan dei 2 canali Io devo dire che sarà un video cringe Ok Si Un video cringe Perché c'è una modalità che si chiama sandwich Allora poch' Perchè non vado su googol Cerco l'Anyfey Allora Questo disegno Sta venendo bellissimo Ci va bene Signore Signore Lia Si Poi mi devi insegnare un po' aditare come fai te Prenditi meglio di me Non mi insegni eh Cacchio non c'ho abbastanza tempo Prova a colorarlo Prova a colorarlo Prova a colorarlo Prova a colorarlo Lo sto rovinando Ecco qua Nope I Nice Io cosa dovrei fare qua Come hai fatto a sviluppare Da un lupo a uno scrotto Let's see Allora Shaggy che discute con Berlusca Ah ecco che cos'è Shaggy contro Nicocato Perché Nicocato è un pupazzo di neve Nicocato è un pupazzo di neve Mi preoccupo Aspettate un secondo Ok dai non importa almeno era così Ragazzi solo a me quello mi sembrava top 20 combattimenti anime Io mi ricordo che c'era un gioco su Game Jolt Che si chiama Shaggy contro Shaggy No era su itch.io Si chiama Shaggy contro Shaggy Bene io devo censurare questa merda Oh no No Cavolo No comment Ah ecco che cosa Ecco che cos'era Non avevo capito Oh no Non mi aspettavo che era così Allora vediamo Herman Shaggy segue gli ordini Ah ecco che cos'era Ecco chi l'ha scritto Io non so disegnare Shaggy La volpe che riprova era figlio Shaggy Chi è che urla? Ti sto dando il corpo di Stewie Griffin No stavo quasi per finire Mi ho scritto Ah devo ok No No guarda Guarda Posso migliorare Guarda Posso aggiustare in un modo Ok Non l'ho disegnato questo Questo disegno tantissimo Ah presentare Cantate che insulta Shag E Shag che gli ficca il microfono Allora Busello Vendiamo Angry Shrek Vediamo Herman cosa ha fatto Ok Ok Prossimo Let's see Baranio 2010 Woody che mangia i McNuggets Sì Woody di Toy Story Vediamo Bello Woody Bello Allora Mi è siccato Andato al mechino Ah 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 Mi è siccato Andato al mechino Patata volente In riva al mare Divià le mani Dal Cidè Ora faccio Vedere il disegno Ok L'entra No ok Questa è la parte In cui ho fatto io Guardate Io ho soltanto fatto così No Well Looks like We're done with The collaboration I know This video Was short And you didn't Get any of that But I think In the video I will put Some subtitles I hope you Subscribe to my channel I hope you leave A thumbs up And a comment Down below I want you to Follow me On itch.io And twitter So you can see All the stuff That I do there too In itch.io You'll see my games And twitter You'll see my stuff That I do And so yeah Have a nice day Bye I'll see you next time I'll see you next time Bye 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 Grazie a tutti.